mi sembra che il Vangelo di questa domenica ci dica qualcosa davvero di prezioso è il Vangelo dei due discepoli di Emmaus che delusi dopo la morte di Gesù se ne vanno da Gerusalemme e si affianca loro questo viandarte che chiede loro cosa sia successo e loro non lo riconoscono Gesù si avvicina loro loro sono tristi perché lui è morto e loro non lo riconoscono e questa cosa e il Vangelo ci dice proprio che i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo e penso che questo ci dica qualcosa di veramente importante di molto vero nella nostra vita di come le cose più preziose che avrebbero in sé la forza di riaprirci alla vita che avrebbero la forza ogni giorno ogni ogni volta di ridarci vita di ridarci forze di aprirci il cuore possono diventare invisibili ai nostri occhi in questo Vangelo c'è proprio questo gioco per cui loro sono tristi perché Gesù non c'è Gesù è con loro e loro rimangono tristi e non si accorgono che Gesù i loro occhi sono incapaci di riconoscerlo poi pian piano Gesù spiega loro le scritture spezza il pane davanti a loro i loro occhi si aprirono lo riconoscono lui sparì dalla loro vista e loro vanno pieni di gioia dai discepoli ad annunciare quello che gli era successo quindi come una volta che questa cosa queste cose preziose hanno come fatto la loro funzione lui attraverso la vita ci ha riaperto gli occhi è ridata a noi è data a noi la forza è dato a noi lo spirito per annunciare e ogni volta però si deve ricompiere questo percorso ogni volta dobbiamo riconoscere la preziosità della della sua presenza che ci raggiunge attraverso tantissime cose attraverso tutto per poter far partire la vita e tante volte veramente lui è come quelle cose così familiari e nello stesso tempo così preziose però così familiari da rischiare di passare inosservate mentre il nostro cuore cerca proprio questa casa questa questa familiarità e nello stesso tempo tante volte tutte le altre faccende tutti i nostri problemi tutte le nostre questioni ci rendono incapaci di riconoscerle e quindi più volte più spesso noi riprestiamo attenzione rispostiamo lo sguardo non lasciamo che le nostre preoccupazioni occupino tutto Teresa dice Teresa Davila dice che tutto si può guardare tutto è bene tutto va bene però il problema è quando qualcosa ti rende schiavo quando qualcosa occupa tutto lo spazio allora lì è il rischio e quindi ogni volta che ci rendiamo conto che c'è qualcosa che occupa tutto lo spazio metterlo giù e rimetterci ad ascoltare rimetterci a guardare tutte quelle cose preziose che ci sono di fianco che abbiamo davanti agli occhi che camminano con noi e lasciare che ci riaprano la vita che ci facciano riscoprire la vita e l'altra cosa interessante è che questo in realtà è il racconto della celebrazione eucaristica vengono usate proprio le parole le scritture la frazione del pane e il cammino della celebrazione eucaristica è proprio questo no rimetterci davanti la preziosità di quello che ci ha affidato farci mettere giù un attimo il resto e da lì da questo riconoscimento farci ripartire da riscoprire la sua presenza viva che dà vita che rende viva la nostra vita poter riaprire il nostro cuore e la nostra vita e l'eucaristia ci insegna questo cammino che può succedere dentro ogni giorno che può succedere dentro ogni cosa riscoprire la sua presenza nella realtà che dà vita alla nostra vita buona riscoperta buona apertura degli occhi e buon cammino ciao